Dopo la vittoria al debutto contro Israele, l'Italia affronta il secondo impegno nel gruppo B delle qualificazioni a Euro 2021. A Tbilisi le Azzurre affrontano la Georgia, un solo cambio per Bertolini rispetto al match d'esordio, fuori Galli dentro Sabatino. All'Italia bastano 7 minuti per rendersi pericolosa, il mancino a giro di Cernoia da calcio piazzato trova in pieno la traversa. All'undicesimo, spunto di Bergamaschi che si crea lo spazio per il cross nel cuore dell'aria, l'acrobazia di Giacinti, bel gesto tecnico ma palla alta. Minuto 23, Giacinti riceve palla in aria, Pasikashvili la mette giù e l'arbitro olandese Peters indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Cristiana Girelli, Gabonia respinge ma l'attaccante azzurro si prende il tapin vincente, 1-0. Per Girelli si tratta del 34esimo gol con la maglia della Nazionale, il secondo in queste qualificazioni a Euro 2021 dopo quello siglato contro Israele. Dopo il vantaggio l'Italia vorrebbe subito chiudere il match, ci prova Giuliano al 29esimo, il suo destro non inquadra la porta a Georgiana. Al 41esimo ancora il play azzurro in evidenza, conclusione da fuori, Gabonia si salva con l'aiuto del palo. Occasioni a raffica per l'Italia ma il raddoppio non arriva nemmeno al 43esimo quando Gabonia respinge il mancino di Guagni, poi viene graziata da Bergamaschi che mette alto. La ripresa si apre come si era aperto il primo tempo, stavolta è Giacinti ad arrendersi alla traversa, terzo legno per le azzurre. L'attaccante del Milan ci prova una manciata di minuti più tardi, anche stavolta senza fortuna il punteggio resta fermo sull'1-0. Il 2-0 non arriva nemmeno nel recupero quando la subentrata Tarenzi mette a lato da due passi. Italia è poco concreta ma i tre punti arrivano, seconda vittoria in due incontri. Le azzurre torneranno in campi il 4 ottobre ancora in trasferta contro Malta, poi l'8 ottobre sarà la volta d'Italia Bosnia-Herzegovina a Renzo Barbera di Palermo.